Investire sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze del personale pubblico. La direttiva del ministro Paolo Zangrillo fornisce alle amministrazioni le indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative. Obiettivo 2023. Sviluppare le competenze digitali di un milione di dipendenti pubblici. Possibile. Grazie a Syllabus.